Trattiamo adesso di Malavoglia, opera comparsa nel 1881 che, come sappiamo, non ebbe il successo sperato da Verga. Sullo sfondo c'è Acitrezza, che è proprio il luogo in cui è ambientato il romanzo. Ora, vediamo da cosa parta il nucleo originario di Malavoglia. Nel 1875 Verga comunica all'editore Treves, che era l'editore presso cui appunto uscivano le sue opere, e aver composto un bozzetto marinaresco, così come lo chiama lui, che si intitola Padron Nontoni, un bozzetto marinaresco ambientato in Sicilia. E questo è lo spunto originario proprio di Malavoglia. Lavora infatti a lungo a questo spunto originario e lo amplia e alla fine, nel 1878, scrive a Salvatore Paolo Verdura di aver progettato il vero e proprio ciclo dei vinti, rifacendosi alla saga di Rougon Macar di Zola. Le parole precise con cui parla di questo suo progetto sono appunto quelle che compaiono nelle lettere, sono una specie di fantasmagoria della lotta per la vita, che si estende dal cenciaiolo al ministro e all'artista, e assume tutte le forme, dall'ambizione all'avidità di guadagno. Quindi questo è il modo con cui Verga presenta il progetto che appunto ha in mente, che parte appunto da questo nucleo originario di Padron Nontoni, che doveva essere una novella, che poi viene ampliato fino a diventare il romanzo in Malavoglia. Allora, andiamo a vedere chi sono i personaggi del nostro romanzo. I personaggi che chiaramente sono i protagonisti del romanzo stesso. La famiglia Malavoglia, che abbiamo detto essere la famiglia toscano, in cui abbiamo il padre famiglia, diciamo così, il pater familias, padrono Nontoni, che è appunto il nonno, il vecchio padrono Nontoni, legato ai valori della tradizione. È interessante anche il modo in cui Verga presenta questa famiglia, dicendo gli uomini sono fatti come le dita della mano, e la famigliola di padrono Nontoni era realmente disposta come le dita della mano. Proprio a sottolineare che la famiglia era una famiglia molto unita, che aveva questo suo senso appunto dell'unione, della coesione, nel vecchio patriarca della famiglia che teneva ancorati tutti i familiari ai valori della tradizione. Padrono Nontoni ha un figlio, che si chiama Bastianazzo, che è sposato con la Longa, e da questo matrimonio sono venuti fuori cinque figli, Nontoni, il maggiore, Luca, Mena, Alessi e Lia. Andiamo a vedere nello specifico le caratteristiche di ciascun personaggio, proprio come Verga stesso ce le descrive. Allora, padron Nontoni, dice, prima veniva lui il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore. Quindi padron Nontoni, chiaramente, in questa metafora della mano, delle dita della mano, chiaramente ha il dito più grosso, quello più importante, che scandisce, diciamo così, la vita di tutti gli altri familiari. Poi abbiamo Bastianazzo, dice Verga. Poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso, filava dritto alla manovra comandata, quindi Bastianazzo, pur essendo padre di cinque figli, comunque segue le direttive paterne di padrono Nontoni. E sua moglie, la Longa, che, dice Verga, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe e far figlioli da buona massaglia, quindi appunto la classica donna della tradizione del sud, che appunto non fa altro che lavorare e badare i propri figli. Nontoni, abbiamo detto il nipote maggiore di padrono Nontoni. Un bighellone di vent'anni, che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno, quindi pur essendo adulto, il nonno continuava a seguirlo e a punirlo, se era necessario. Poi abbiamo Luca, che aveva più giudizio del grande, ripeteva il nonno, quindi Luca è un uomo, diciamo, un ragazzo assennato, che quindi segue le direttive del nonno più di quanto faccia lo stesso Nontoni. Luca poi, nel corso della vicenda, partirà per la battaglia di Lissa e lì, nel 1866, vedrà la morte. Poi abbiamo Mena, Mena, dice Verga, soprannominata Sant'Agata, perché stava sempre al telaio. Poi abbiamo Alessi, Alessi dice un moccioso, tutto suo nonno colui, e Alessi è l'unico che praticamente sopravvive alla disgregazione della famiglia, alla fine del romanzo, proprio insieme alla sorella Mena, e quindi sono gli unici due della famiglia che, dopo tutta la fiumana, diciamo così, del progresso che arriverà loro addosso, dopo tutte le sventure che patiranno, gli unici due che appunto resisteranno alla marea, come dice lo stesso Verga. E infine la piccola Lia, definita ancora né carne né pesce. Lia invece farà una brutta fine nel romanzo, perché Lia si darà poi alla prostituzione, quindi comunque le vicende appunto porteranno questa famiglia a disgregarsi completamente. Vediamo quindi brevemente di riassumere la vicenda per sommi capi. Nel paese di Acitrezza, in provincia di Catania, da diverse generazioni nella casa del Nespolo, vive la famiglia toscana, rinominata appunto dei Malavoglia. La casa del Nespolo è un luogo simbolico all'interno del romanzo, come vedremo meglio. Questa famiglia trae sostentamento della pesca, ma a causa delle leva militare vengono meno alcune forze, per cui il capofamiglia, padron Antoni, si vede costretto, per far fronte alle difficoltà economiche, a provare a, diciamo, intraprendere un commercio. Quindi acquista a credito un carico di lupini, facendosi prestare i soldi e interessi dallo zio crocifisso, che è un usuraio, e questi lupini dovrebbero essere rivenduti nella città di riposto. Ma durante il viaggio su questa barca, che si chiama la Provvidenza, anche questo non è un nome a caso, naturalmente, che richiama invece la fede che questi personaggi hanno nella Divina Provvidenza, Bastianazzo viene investito da una tempesta, e questa tempesta fa disperdere lui la barca e il credito, quindi praticamente perdono tutto. A questo punto, quindi, iniziano le vicende della famiglia, diciamo, la famiglia è costretta a ripagare questo debito, vendono la casa del Nespolo, e piano piano i fratelli si perdono. Abbiamo detto Antoni, il maggiore, si dà a un certo punto al contrabbando. Abbiamo detto che Luca muore in battaglia, mentre, appunto, Lia si dà alla prostituzione. Gli unici due che, appunto, rimangono saldi sono, abbiamo detto, appunto, Alessi, che sopravvive alla disgregazione della famiglia e alla fine sposa la cugina annunziata e addirittura riesce a ricomprare la casa del Nespolo ed infine rimane la sorella Mena. Tutto il resto della famiglia, appunto, viene meno. Andiamo a vedere quali sia il contesto storico-culturale di riferimento. Il romanzo è ambientato nella seconda metà dell'Ottocento, più precisamente dal 1863 al 1878 circa, quindi siamo subito dopo l'Unità d'Italia che avvenne, come ben sappiamo, il 17 marzo 1861. È interessante però notare come siano continuamente contrapposti nel romanzo un tempo ciclico, che è un tempo, diciamo così, lento, che dà proprio una lentezza al ritmo narrativo nella prima parte del romanzo, tempo ciclico che è legato proprio alle tradizioni della famiglia, al fatto che comunque i Malavoglia siano ancora ancorati a delle tradizioni arcaiche, che siano una famiglia per bene, che si differenzia dalle altre famiglie di acitrezza, che sono invece alla ricerca continua di guadagno. Quando però a un certo punto anche la famiglia dei Malavoglia si adegua in qualche modo a questa ricerca di benessere, allora il ritmo si fa più sostenuto, il tempo passa dal tempo ciclico al tempo lineare della storia e quindi, diciamo, anche la velocità narrativa aumenta notevolmente. E lì, diciamo, i Malavoglia si inseriscono pienamente all'interno proprio delle vicende storiche del tempo. Quali sono le caratteristiche chiave che troviamo nei Malavoglia a livello, diciamo, culturale e sociale? Innanzitutto il diffuso un alfabetismo presente tra i popolari, insomma, tra gli abitanti di Acitrezza, che era appunto una caratteristica vera, che appunto era rappresentativa, insomma, dell'ignoranza e della, diciamo, dell'arretratezza del sud Italia. Il prevalere di un sapere popolare che sicuramente dà proprio il senso, la misura, diciamo così, di questa ignoranza dei abitanti di Acitrezza, che continuano a tramandarsi delle tradizioni antiche e non sono disposte quindi ad accettare il nuovo. Il malcontento per il nuovo governo che aveva imposto dazzi, tasse e leva militare obbligatoria. Abbiamo detto come la questione meridionale stia molto a cuore a Verga e come Verga cerchi comunque di analizzare anche le cause di questo malcontento degli italiani del sud Italia. Italiani del sud che speravano che il passaggio dai Borbone allo stato italiano portasse comunque un miglioramento, un miglioramento che non avvenne. Abbiamo già parlato nell'introduzione storica alla seconda metà dell'Ottocento, come nell'Italia meridionale si fosse diffuso anche il brigantaggio, una vera e propria piaga. E anche il brigantaggio nasce senz'altro da questo continuo malcontento, ovvero i contadini del sud speravano in un miglioramento delle condizioni, invece lo stato italiano impone tasse, impone la leva militare obbligatoria che chiaramente toglie braccia al lavoro e quindi di fatto la situazione economica peggiora. E' anche questa una delle cause che poi porterà lo stesso padron Tony a provare, appunto, a tentare di migliorare la propria condizione con questo carico di lupini e quindi a contravvenire a quelle che erano invece le regole, le leggi della tradizione, ovvero rimanere ancorati alle attività della pesca. Peraltro, diciamo, la causa scatenante che porta quindi a questo disastro economico è proprio la partenza di un Tony per il militare, quindi chiaramente tutto si lega proprio alle conseguenze dell'Unità d'Italia e del governo italiano. Vediamo quindi ai luoghi, che sono luoghi simbolici. Allora, innanzitutto il villaggio, cioè il paese, a Citrezza, che è un luogo che comunque dà sicurezza, è un luogo in cui troviamo da un lato, diciamo, un legame appunto con la tradizione e con la ciclicità del tempo, dall'altro però anche personaggi che comunque sono legati ad un'ottica del guadagno, personaggi che brigano, che comunque cercano di arricchirsi in tutti i modi, famiglie che cercano di sistemare, tra virgolette, le proprie figlie con dei matrimoni convenienti. E i malavogli gradualmente si adeguano a questo tipo di mentalità. La città, invece la città rappresenta l'esterno, rappresenta l'insicurezza, l'insidia, tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che appunto non si conosce. Il mare simbolicamente assume due valenze. Il mare è fonte di sostentamento di guadagno, perché è il luogo dove chiaramente i malavogli pescano, non ottengono quindi i loro profitti, ma il mare è anche il luogo di insidie, che infatti porterà la morte appunto a bastianazzo e la distruzione della provvidenza. Ma il luogo simbolico per eccellenza è proprio la casa del Nespolo, quindi la casa dei malavogli, che dapprima appunto per ripagare il debito viene venduta, ma poi a costo di sacrifici viene riottenuta nuovamente da Alessi. La casa del Nespolo è il luogo in cui si apre e poi si chiude la narrazione dei malavogli, quindi in maniera ciclica. E chiaramente è il luogo simbolico perché è il luogo del nido familiare, quindi il luogo in cui si assomano tutti i valori della famiglia, la sacralità proprio della famiglia. All'inizio della narrazione la casa del Nespolo è abitata dalla famiglia malavoglia, che è una famiglia fiorente, in una famiglia quindi che è legata ai saldi principi della tradizione, che quindi gode comunque di proventi che bastano a sostentare la famiglia. Durante lo svolgimento i malavoglia, prima per la partenza appunto del nipote Antoni per la leva militare, poi appunto per il disastro della provvidenza, sono costretti a vendere la casa, e da quel momento la casa diventa un po' una cast di famiglia, cioè la ricerca di qualcosa che deve essere riottenuto nuovamente, l'oggetto del desiderio da riconquistare. Soltanto alla fine del romanzo, la casa del Nespolo, grazie proprio agli sforzi di Alessi, verrà ricomprata, però diciamo il nucleo familiare appunto non può essere ricostituito, perché come abbiamo già detto rimangono soltanto Alessi e la sorella Mena, e quindi tutto il resto della famiglia comunque si è disgregato. Ripeto, Luca è morto nella battaglia di Lissa, nella terza guerra di indipendenza, Antoni è andato in prigione e non riesce più a ritrovare quell'equilibrio familiare, quindi quando Antoni torna a salutare chi è rimasto della famiglia, si sente proprio un escluso, si sente un estraneo, perché la sua vita è cambiata e quindi non riesce più ad adeguarsi ad un passato che non sente più appartenergli. E abbiamo detto la giovane Elia che invece appunto si dà alla prostituzione in città. E infine andiamo a vedere quali sono i temi principali di questo romanzo. Innanzitutto la fedeltà ai valori della tradizione contrapposta alla modernità, ma una modernità che come abbiamo già detto proprio si insinua e quindi non può far altro che portar via, trascinare anche questi membri della famiglia che sono invece ancorati al passato. Poi, senz'altro, un altro tema chiave è quello dell'unità d'Italia e delle sue conseguenze. Abbiamo detto leva militare, abbiamo detto le tasse e quindi appunto di conseguenza la necessità da parte della famiglia di Malavoglia che simboleggia proprio il passato del sud Italia, necessità di adeguarsi e di trovare altri mezzi di sostentamento che poi portano al disastro. E chiaramente anche la disamina sociale, quindi da un lato i valori tradizionali che sembrano avere quindi una valenza positiva all'inizio del romanzo, ma questi valori tradizionali che poi si disgregano di fronte ad una necessità quasi fatale, direi, che è la ricerca dell'utile. Quindi questa marea, questa sete di guadagno, questa lotta per l'esistenza travolge fatalmente anche i Malavoglia, ma come abbiamo detto poi li porta al dissesto, li porta quindi alla disgregazione totale.